Eminenza, nella sua omelia indirizzata ai giovani che partecipano a questa tendopoli, lei ha detto in pratica che tutto è cominciato da una periferia, quella di Betlemme. Sì, una periferia vivente, fa riferimento a Dio stesso che ha voluto diventare uomo come noi proprio per mostrarci che nella vita tutti si trovano sfidati da una periferia e la devono affrontare. Periferia significa una situazione di disagio, di fatica, di difficoltà, di sofferenza, ma significa anche un luogo da cui può scaturire una grande speranza per il futuro. Da questo punto di vista io insisto nel dire che non ci sono soltanto le periferie geografiche, ci sono quelle esistenziali, ma in ultima analisi ogni cuore umano in un certo senso è periferia, perché abitano al cuore umano anche l'indifferenza, il disagio, la paura, la violenza, tutto nasce dal cuore, in questo senso lì c'è la periferia, ma ciò che conta è la tenda che viene piantata in una periferia. Si trasforma la periferia in un luogo di vita e di speranza nella misura in cui c'è una tenda e la tenda, così come ho cercato di presentarla, è l'amore di Dio che non può dimenticare l'umanità che Lui ha creato, che ha redento, ma vuole servirsi anche di noi come mezzi concreti e molto, come dire, precisi per rivelare agli altri che è possibile vivere nel segno della speranza perché c'è un Dio che ci ama. E sul tema di questi incontri è anche significativo il Vangelo di oggi, quello dell'incontro di Gesù con il giovane ricco, un esempio che lei ha dato ai ragazzi. Sì, il giovane ricco è invitato a lasciare perdere la ricchezza materiale, ma per non fallire, ma al contrario realizzare pienamente la sua identità di uomo, che significa in ultima analisi sapere aprirsi agli altri e donarsi agli altri. E questa è la vera ricchezza spirituale, la nuova ricchezza che ci sorprende, che sta stampata dentro il cuore di ogni essere umano. Per chiudere, lei ha utilizzato le parole di una canzone, di un autore che piace molto ai giovani di una volta, Fabrizio Di Andrè. Sì, per la verità anch'io l'ho copiata dal Deppian che reclamizza appunto questo tendo per San Gabriele. Questo autore ricorda che in ultima analisi c'è una risorsa in tutti e in ciascuno di noi la risorsa è quella dell'amore. Che esperienza è stata con questi ragazzi? Dunque, un'esperienza di giovinezza, dico così, pensando alla mia età, ma soprattutto pensando a una giovinezza che deve essere accolta da tutti quanti noi, soprattutto da chi ha una responsabilità in famiglia, nella comunità o addirittura nelle realtà istituzionali. Dobbiamo avere più fiducia nel mondo giovanile, perché il mondo giovanile non è come spesso si dice, è il nostro futuro, no, il mondo giovanile è il nostro presente. Non possiamo dimenticare il presente se vogliamo essere sicuri che il futuro sia un futuro migliore dell'oggi.